Ola amico, buon giorno, buonasera, io sono Satino, questo è il mio canale, oggi siamo qui con un appuntamento su Clash of Clans perché c'è stato l'aggiornamento, nuove modalità, nuove cazzate, nuovi tipi di gestioni e come possiamo vedere qui ragazzi, inizialmente questa è la panoramica del nostro esercito quindi possiamo vedere tutto il nostro esercito, le truppe del castello del clan, possiamo richiedere da qui qui ragazzi possiamo trovare senza andare a toccare direttamente, possiamo direttamente fare tutto da qui ragazzi quindi andiamo a farci le nostre tupine così a cavolo poi ragazzi, seconda cosa, seconda cosa, andando qui sulla destra e sulle rotelline, a parte le impostazioni abbiamo ragazzi, tieni da sicuro il tuo villaggio, effettua l'accesso a Google Play per proteggere i tuoi progressi e giocare su più dispositivi Android qui ragazzi abbiamo l'ascesa di maestri incantatori e leggendari, possiamo praticamente mettere gli scudi sui nostri depositi così potremo mettere al sicuro i nostri big money, i nostri desideri, c'era e c'era e c'era e poi non ci diciamo proverete dentro il gioco, vi dirà per giocare dovete fare l'aggiornamento, altrimenti siete fottuti, rimanete fuori la porta ci prendiamo un po' di robette ragazzi, mi hanno fottuto tanti ore, ho avuto quattro combattimenti ho vinto 17-19 coppie su quattro combattimenti, cioè avevo un milione ne avevo, di soldi mannaccia la miseria sangue d'amarancia, un bel po' di gemme, tante gemmine, tante gemmine sti brutti stronzi, guarda, guarda, 205 mila, cioè ho vinto io, però mi hanno comunque fottuto tanto poi andiamo a scoprire ragazzi questa cassetta di gemme che mi ispira tanto, tanto, tanto che sta prendendo ragazzi la muffa, non so da quanto tempo sta aspettando di essere, di essere presa questa cassa di gemme col tempo ragazzi si migliora e quindi dovrebbero esserci più gemme bella mia, bella mia, bella mia, bella mia, tante gemmine, tante gemmine tutte per noi eccolo e se stai bene a fa' un po' di uno secondi allora ragazzi, pronostico, scrivete sotto i commenti quante ne troverò forza, veloci, veloci, secondo me una trentina, forza, forza, scrivete sotto i commenti quante ne troverò 25 sembra 25 ne trovo, secondo me è 25 la standard per quanto riguarda poi il resto, è sempre rimasto sempre lo staffo qui possiamo sempre risultare gente a casaccio nabbi, aspettate, nabbi nel prossimo appuntamenti ragazzi ad ampliare il nostro municipio a livello 6 così andremo anche ad aggiu... la polvere che c'è lì mi fa venire l'energia soprattutto andremo poi ragazzi insieme ad aggiungere dei nuovi oggettini quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto vi dà mettere un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non vedete il mio video precedente dove faccio un mini tutorial su Crash of Clans guardate qui sotto per suggerimenti ovviamente non ho, mi avete suggerito di mettere tutti i depositi all'interno delle mura il problema è che io non ho mura necessarie per metterle dentro mettere tutti dentro questi e quindi nel prossimo appuntamento quando andremo ad ampliare il nostro municipio vedrò un po' come aggiustare il tutto grazie ragazzi e alla prossima ciao ehi tu, cosa aspetti ancora? non ti sei iscritto? forza, dai, non sai cosa ti aspetta videogame, gameplay, video divertenti, stupidi, malati cosa aspetti? clicca su di me e potrai avere a disposizione un mondo di video tutto per te metti un bel like e clicca su di me che ricorda io non vendo sogni ma solidi video ogni giorno forza, cliccami, cliccami